La sfida più complessa quando parliamo di innovazione didattica sta nel riuscire ad ideare e poi a gestire delle esperienze di apprendimento e insegnamento che portino con certezza i nostri studenti a raggiungere quei risultati di conoscenze, abilità e competenze che sono specifiche della nostra disciplina, ma che nello stesso tempo riescano a dar loro l'opportunità di sviluppare quelle competenze più complesse in termini di pensiero critico, di capacità di collaborazione, di comunicazione, di attivazione del proprio potenziale creativo che sono così importanti per inserirsi nel contesto del rapido cambiamento che troveranno appena fuori dalle nostre università. In questo passaggio, da un paradigma basato prevalentemente sulla didattica frontale ad uno in cui si valorizza la dimensione della didattica attiva e della didattica attiva, c'è un tema cruciale di gestione del cambiamento, che riguarda il cambiamento della figura del docente. Passiamo sostanzialmente da un paradigma in cui il docente è un docente oratore ad uno in cui il docente diventa un docente designer. Si tratta di due figure veramente diverse. Il docente oratore è responsabilizzato principalmente rispetto alla selezione dei contenuti da trattare e alla loro esposizione nel modo migliore, più chiaro, più efficace. La sua capacità di esprimersi in modo efficace e coinvolgente diventa la sua competenza centrale. Il docente designer invece è il docente che riesce a progettare un'esperienza d'apprendimento ampia che preveda l'attivazione degli studenti da soli in gruppo in relazione col mondo esterno, con l'utilizzo eventualmente di tutto quello che può servire proveniente dal mondo digitale, per raggiungere i risultati d'apprendimento attesi. Il docente designer potrebbe addirittura arrivare ad ideare un contesto d'apprendimento in cui lui sta zitto. Attiva l'aula rispetto al raggiungimento dei risultati d'apprendimento che si raggiungeranno grazie alle proposte ed iniziative di attività che lui avrà ideato. Naturalmente, questo non significa andare a demonizzare quella che è la didattica frontale. Il trasferimento dei contenuti avrà sempre un ruolo importante nella nostra didattica. La cosa rilevante è che il trasferimento di contenuti, quando necessario, avvenga con una funzione specifica dentro a un progetto didattico. L'attenzione del docente non potrà quindi limitarsi alla selezione accurata dei contenuti da trattare nel proprio corso, ma dovrà allargarsi alla progettazione dell'intera esperienza d'apprendimento, in cui, tanto per incominciare, i contenuti stessi presentano tante diverse sfaccettature, perché ci sono i contenuti in sé, ma anche la loro struttura, il loro formato, le fonti da cui attingere, e fanno parte di una rete più ampia che rappresenta l'esperienza d'apprendimento. Di questa rete fanno parte i nodi soggetti attivi dell'esperienza, che dovranno essere capiti ed osservati nelle loro caratteristiche, i canali fisici e virtuali che utilizzano per comunicare, le tipologie di attività individuali e di gruppo che si deciderà di attivare nell'esperienza, e un ruolo significativo o meno del mondo esterno nel costruire i risultati d'apprendimento che ci si propone. Quindi vedete un percorso di progettazione ricco ed articolato, nel quale però vi supporteremo utilizzando questo strumento della rete dell'apprendimento che impareremo a conoscere nei suoi dettagli lungo il MOOC e che ci aiuterà a destrutturare l'esperienza d'apprendimento, a osservarla con più consapevolezza nelle sue parti e a riprogettarla facendoci ispirare sia dalla cultura pedagogica che dalle possibilità delle nuove tecnologie. Per arrivare qui, però, dobbiamo prima costruire delle solide basi, per cui partiremo ragionando sui risultati d'apprendimento attesi, cioè sugli obiettivi che vogliamo raggiungere alla fine del nostro percorso, sulle strategie di valutazione che utilizzeremo per vedere se effettivamente siamo riusciti a portare gli studenti a quei risultati d'apprendimento che avevamo definito e anche andremo ad esplorare i modelli pedagogici che possono aiutarci a rendere dinamiche e a progettare in modo efficace l'esperienza di apprendimento. Grazie.